Per me è veramente incredibile come la tecnologia non funzioni mai e appunto tu magari ieri mattina ti sei lanciato da non so se cazzo e oggi invece ci metti a mezz'ora per riuscire a connettere una roba, è così, poi non capisci mai ma funziona quello, funziona l'altro, è sempre un cinema ogni volta, come stai? Bene, 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 ho avuto un po' di problemi tecnici, io e la tecnologia ho proprio due cose un po' divergenti. Quando è l'ultima volta che hai fatto un salto, che ti sei lanciato? Scusa, è lancio? Nello slang noi parliamo di saltare, ok? Saltare, poi vabbè, lancio, ok? Però se mi senti durante la discussione parlare di saltare è il lancio, ok? Usiamo i nostri slang. Ieri era brutto tempo, il giorno prima, l'altro ieri. Ok, e da dove ti hai saltato? Una montagna qua vicino dove vivo io, io sono qua in Trentino, siamo in una valle dove è un po' la mecca di questo sport, c'è una montagna famosissima dove vengono da tutto il mondo per praticare, fa qui di 16.000 salti l'anno questa montagna, cioè in tutte le persone che passano. E quindi è la mia palestra, siamo allenati tutti i giorni, eravamo lì. Ma tu praticamente in una giornata tipo, se salti in quella giornata climaticamente a posto così, quanti ne fai? Quanti salti fai? Qui in questa valle si riescono a fare massimo tre salti al giorno, è una questione proprio di meteo. Siccome siamo all'imbocco di una valle dove alla base di questa valle c'è il lago di Garda, c'è un vento locale che si chiama ora del Garda che arriva tutti i giorni puntuale. E quindi si riesce a saltare la mattina presto, prima a cadere da questo vento, nelle ore centrali no perché c'è troppa attività turbolenta e termica, e poi al tramonto. Quindi in massimo si riescono a fare tre salti al giorno, di media. Tre salti al giorno e ogni salto quanto dura? Allora, devi prendere presente che non è come il paradigma che prendi un aereo e vai su, quindi il salto in sé dipende da cosa stai facendo. Se volo con una tuta l'area faccio anche un minuto di caduta libera, 40 secondi, dipende. Se salto senza niente, jeans e felpa, faccio dai 10 ai 15 secondi di volo, di caduta libera, cioè prima di aprire il paracadute, ok? Poi c'è tutto, poi per arrivare a fare questo, per chiudere il cerchio ci vogliono quasi due ore, perché c'è da prendere un mezzo che ti porta dove inizia il sentiero. Dal sentiero, adesso che c'è un po' di neve, ci si mette un'ora arrivare lì camminando con lo zaino, con il paracadute, poi ci si prepara tutto quanto e si salta. E quando arrivi giù a terra, quanto ci metti a recuperare il paracadute, a rimetterlo insieme? È un'operazione più lunga o? Si dice piegare, ripiegare il paracadute, ok? Per ripiegare un paracadute da base, una mezz'oretta, dai, mezz'ora. Wow, mezz'ora. Pensavo ci fosse tipo un bottone che tu schisciavi il bottone. Magari, magari, è il sogno di tutti noi, però no, ci vuole una mezz'oretta. Chi è veloce ci rimette anche un quarto d'ora, però diciamo che la media è la mezz'ora, anche 40 minuti. Io sono abbastanza lungo, la mia mezz'ora me la prendo. Quando dicevi, quando salto giù in jeans e felpa, era un eufemismo, giusto? Non è che tu salti giù in jeans e felpa, c'hai tutte le tue tutine e robe così, immagino. No, 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 in realtà puoi saltare come vuoi, puoi saltare anche nudo, basta che hai il paracadute e puoi saltare come vuoi. Cambia però, ovviamente, i tempi di chiusa libera, perché la tutalare, non so se hai messo a parlare, abbiamo delle membrane tra le braccia e le gambe. Che ti tiene più su, immagino. Esatto, dilatano i tempi di chiusa libera e un'altra cosa, un altro concetto di volo. Caduta libera, cioè, se salto veramente, realmente in jeans e felpa, ho un attrito maggiore, cioè, diciamo, penetro di più nell'aria, ok? E quindi i tempi sono quelli effettivi di un corpo in caduta libera, non si scappa. Quindi è molto minore, certo? Quando vedi James Bond che si butta giù e lui ha sempre queste posizioni a supposta, va giù dritto così per raggiungere quello davanti, perché non so perché lui si butta sempre e non c'è mai paracadute, quindi deve sempre beccare qui davanti, agganciarlo. Esatto, questa è sempre la solita James Bond. Come, diciamo, una posizione da film, è una roba che effettivamente si fa, e quanto cambia se tu ti butti in quella posizione o ti butti invece piatto per prestare sul più possibile? Allora, ovviamente l'assetto di volo, la posizione che tu hai in aria, incide tantissimo sulla velocità di caduta libera e i tempi di caduta libera. Però, devo fare una premessa, se stiamo parlando di base jump, ok, e paracadutismo, perché le forze in gioco sono un po' differenti. Nel senso che di paracadutismo noi saltiamo da un aereo a 4.000 metri, e abbiamo 3.000 metri di utile, ok, per il volo. Quindi un salto in caduta libera dura, senza niente, diciamo, senza tutelare, anche un minuto. Mentre da una montagna o da una struttura, può durare dai due secondi, ok, da un secondo, a, se hai la tutelare, a anche un minuto e mezzo, anche due, però con la tutelare. Senza tutelare, è difficile che ci sono montagne che ti fanno superare i 15-18 secondi, saltando in jeans e felpa, ok? Ok, ok. Quindi, rispondendo alla tua domanda, se io salto da un aereo e mi metto in piquet, a testa in giù, ok, ho una maggior penetrazione nel flusso, raggiungo velocità, fanno delle gare di speed, dove raggiungono i 400-500 km orari. Quindi il salto dura 30 secondi, niente, anche perché poi devi spendere magari una buona quota di quota per rallentare tutta quella velocità, se no il paracadute non lo puoi aprire a quella velocità. Ah, giusto, giusto, perché vai giù come un proiettile e a quel punto... E a quanto devi essere per poter aprire un paracadute? Essere in tempo di velocitare? Sì. Guarda, una velocità media di un corpo in caduta libera sul piatto, stiamo sui... può variare dai 150 ai 200 km orari, ok? Lo apriamo ancora, cioè devi rallentare e poi lo apri un paracadute, però se vai in una gara di velocità a 400 km orari, no, devi rallentare a quella velocità lì. Però ti faccio ora una delle mie super domande stupide, di totale ignoranza paracadutistica, base giamperistica. se tu stai andando giù a 500 km orari, come cazzo fai a rallentare? Nel senso, non è che c'hai il freno e dici, aspetta il freno un attimo, stai andando giù. E quindi come fai a rallentare tecnicamente? È tutto col corpo, cioè, è tutto col corpo. È come tutto quello che la tua mente immagina nell'aria, riportalo nell'acqua, che è più vicino a noi, ok? Se tu, in acqua, maglia che ti lascia andare a braccia aperta, gamba aperte, cadresti verso il fondo a una certa velocità. Se ti metti a testa in giù, come fanno gli apneisti, ok? Giustamente vanno più veloci. Quindi io, per andare veloce, mi metto a testa in giù, una posizione proprio super a sigaretta, super stretta, ho meno parti che fanno attrito col flusso, ok? E prendo velocità. Mentre se devo rallentare, mi metto braccia larghe, gambe larghe, e proprio rallento, spingo sul flusso. Questo richiede tempo, ovviamente, bruci molto della quota per fare questa operazione, ma rallenti perché l'attrito sull'aria è maggiore perché esponi più superficie. Questo è il concetto. Altra mia curiosità, e poi invece volevo passare alla tua scelta di fare il mestiere che fai. Scusami, quando uno ti dice che mestiere fai, che cosa rispondi tu? Base jumper. Mi fa ridere. Io dico base jumper, però dipende chi me lo chiede. Se non mi dico al libro professionista, diciamo, perché se no devi andargli a spiegare, è particolare, nel senso che non esiste, ne la sono inventata, è questa cosa. Io e altri colleghi, insomma, però non è che esiste la categoria. Diciamo, il libro professionista, il base jumper, ok? Io insegno alle persone, ok? Attenzione, non alle persone, io insegno ai paracautisti esperti come switchare dal paracautismo al base jump, ovvero mollare un vettore perfettamente funzionante, saltare da un aereo per andare su delle basi fisse, quindi strutture naturali costruite dall'uomo dalle quali poter saltare con un paracautismo sulle spalle. Ok. Apro parentesi, un'assicurazione assicura un base jumper o non sei assicurabile? Ci sono delle assicurazioni, pochissime, ok? Che assicurano, anche se fai dei viaggi all'estero, che per danni che ti causi, ok? Facendo base jump, ok? Quelle conto terzi ce n'è una... ci sono comunque, poca roba ma c'è, sì, molto borderline. La curiosità che avevo era questa, il paracadute. Il paracadute del paracadutismo e il paracadute del base jumping sono due paracaduti diversi, mi dicevi. Ok. Che differenza c'è e perché paradossalmente il paracadute del base jumper sarebbe più sicuro di quello del paracadutismo? Allora, non è che è più sicuro, è più sicuro nel contesto in cui viene utilizzato, ok? Ok. Allora, devo farti un piccolo preambolo. Allora, innanzitutto, paracadutismo e base sono due sport totalmente differenti, su questo l'abbiamo capito. Li accomuna, ok? La bicicletta alle ruote e la moto alle ruote, ma sono due cose differenti, ok? Yes. Quindi, il paracadute di paracadutismo, ok? Paracadute noi lo chiamiamo in generale il materiale, è composto da una sacra, tutto dietro, uno zainetto, ok? Con due paracadute piegati dentro, no? Uno sopra, uno sotto. Si chiamano il principale, ok? Il paracadute principale e l'emergenza, che lo dice la parola stessa, viene utilizzato in caso di emergenza. Quindi, immaginiamo che io faccio il mio salto dall'aereo da 4.000 metri, arrivo a 1.000 metri in quota d'apertura, circa, aziono il mio paracadute, ok? Vado per azionare il mio paracadute, però ho un problema, ok? Oppure la vela si apre male, sgancio il mio paracadute principale che va via e posso attivare l'emergenza. Mi metto un altro paracadute perfettamente funzionante sulla testa. Perfetto. E questa è la procedura di paracadutismo, ok? Come faccio, scusa la domanda stupida, come faccio a sapere di essere a 1.000 metri? C'è un altimetro. Ah, ok. Scusami. Ok. C'è un altimetro che hai tipo su un orlogio, vedi così e c'è 1.000 metri. O hai un segnale che ti fa... No, no, allora c'ho un altimetro e poi c'è anche un altimetro acustico, quindi lui mi segnala delle varie quote, quindi suona, arrivo a 1.000 metri, 6.000 metri, controlli, perfetto, momento di aprire. Ok, scusami un attimo e hai detto, c'è l'altimetro acustico e l'altimetro sull'orologio? Sull'orologio, switchiamo nel bass, ok? Nel saltare da una montagna. Io salto, non ho più l'altimetro da guardare, ho il terreno da tenere sott'occhio, ok? Perché è il terreno il mio altimetro, ho solo il paracadute e devo aprire il paracadute alla quota adeguata. Ovviamente l'occhio non è un altimetro, quindi lo sviluppi, la sensibilità la sviluppi col tempo. Le prime volte però è un po' più alto, poi un pianino lo affini e sai esattamente quando è il momento di aprire il tuo paracadute. Due domande che mi metterebbero subito il dubbio se dovessi la lasciare con un paracadute nella mia codardia e incompetenza. La prima è, perché nel bass jumping tu non hai un altimetro e perché non hai un secondo paracadute di riserva? Allora, un secondo paracadute di riserva non ce l'hai perché le quote in cui andiamo a giocare sono ben inferiori. calcola che se salta una montagna di mille metri è grasso che cola, è una grande quota, ma a volte noi saltiamo da 100 metri, quindi salta e tira oppure due secondi di tuta libera. Non ci sarebbe fisicamente la possibilità di attuare delle normali procedure d'emergenza che generalmente si attuano nei salti convenzionali di paracautismo. Per quanto riguarda l'altimetro, perché anche lì non ci sono altimetri studiati per questo tipo di salti, nel senso che io posso guardare a che quota sono nel punto di salto, ma a volte è una questione di due secondi, quindi salti, posizioni e apre tutto paracadute. O comunque salti da una montagna, faccio i miei esercizi e poi è il momento di aprire, ma è tutto molto visivo. Immagina che è come se fossimo dei tuffatori, dei cliff diver, ok? Ma da posti molto più alti, quindi si entra più nell'ottica del tuffatore da una base fissa, che non è il paracadutismo, dove è proprio un'altra cosa. E quali sono le variabili che prendi in considerazione per sapere quando devi aprire il paracadute? Vabbè, innanzitutto devo sapere la quota che ho verticale dal terreno, quindi devo avere lo spazio per poter aprire il paracadute. Un paracadute da base per aprire completamente la vela calcola che utilizza almeno 50 metri, tra i 40 e i 50 metri e la vela è completamente aperta, quindi quelli mi servono. Dopodiché devo vedere dove è l'atterraggio, perché devo arrivarci all'atterraggio, quindi devo avere il tempo di volare verso la zona d'atterraggio. Più è lontana la zona d'atterraggio, più devo aprire prima il paracadute per avere più quota da utilizzare per arrivare alla zona d'atterraggio. Questi sono i due parametri fondamentali. Poi c'è il vento. Però scusa, come fai a sapere quanto è profonda una parete? Se tu salti non dal Colosseo, ma salti da una montagna, come fai a sapere quanto Quanta quota ho a disposizione per il salto. Vabbè, innanzitutto puoi studiare delle cartine, vedere delle curve di livello, se no ci abbiamo dei laser, dei laser che ci permettono di misurare proprio effettivamente l'altezza, o un metodo molto arcaico ma sempre molto valido, guardando che non ci sia nessuno sotto, se si può si prende un sasso, lo si tira e si contano i secondi che intercorrono dal momento che lascia la mano a quando tocca per terra. Con delle tabelle di riferimento, noi sappiamo l'accelerazione che abbiamo, quanto tempo ci mette il sasso a sbattere per terra, tipo 5 secondi, perfetto, 5 secondi, corrispondono a 110 metri, io so che quella parete è più o meno ai 100-110 metri. Ok. Però diciamo che nelle quote al di sotto dei 100 metri si lavora sempre con il laser per avere una misurazione. Tu sai esattamente quanto spazio poi devi percorrere, quello che ancora non mi è chiaro è come fai a sapere quando aprire paracadute, è solo un fatto di esperienza e oppure conti uno, due e poi apri, come funziona? Quando sei principiante veramente conti, cioè agli inizi vado conti, mille uno, mille due, apri, sì sì, ma quando sei proprio le basi, ok, diciamo allievo, dopodiché si sviluppa veramente un feeling che tu sai quando deve aprire, ok, io salto e la percezione del secondo, due secondi che passano oramai è dentro di te, si sviluppa come un sesto senso su quello. Per quanto riguarda invece i salti in caluta libera dove io salto una montagna, volo, precipito per un tot di secondi verso il terreno, è tutto visivo, è tutto l'occhio, i riferimenti che hai ti dicono a che quota aprire. Ed è tutto manuale, cioè non è una roba automatica, ma nel paracadutismo c'è una roba automatica che ti apre in automatico il paracadute oppure è sempre manuale questa operazione? No, 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 allora il paracadute lo azioni sempre tu, sei tu che ti apre il paracadute. Però attenzione, hai detto una cosa molto interessante perché nel paracadutismo c'è un sistema, ok, con una valvola barometrica, tarata, che se resista che il suo cliente ha un problema, non riesce ad attivare il paracadute, automaticamente gli apri il paracadute d'emergenza. Io salto da un aereo, svengo, ho una collisione in volo, perdi sensi, non posso attivare il mio paracadute, non arrivo per terra, ha una determinata quota, lui capisce che c'è un problema e mi attiva il paracadute d'emergenza. Quindi comunque una vela sulla testa aperta te la mette, poi bisogna vedere se sei svenuto dove vai a finire con sta vela, però non arrivi per terra. Esatto, nel base questo non c'è perché comunque è un sistema totalmente diverso, non ci sono dei sistemi di sicurezza di questo tipo, il paracadute nel momento che tu stacchi i piedi da una base fissa lo devi aprire tu, nessuno ti potrà aprire il paracadute, è tutto in mano tua. Anche a livello di stress è notevole, anche per questo è un motivo per cui non tutti i paracadutisti fanno base, ci sono tutte delle variabili che non tutti si sentono ad affrontare. E tu come ci sei finito a fare base jumping? Perché hai fatto prima paracadutismo per parecchio tempo, hai fatto centinaia di salti, però come sei finito a fare base jumping? È stato tutto un percorso, sempre come tutte le cose vengono nella vita si sono incastrate anche un po' per caso. Per caso sono arrivato al paracadutismo tramite un amico, avevo 17 anni e nel 2001 già nell'ambiente del paracadutismo, quindi comunque di caduta libera, paracadute, si stava già parlando di un contesto di questo tipo, mi è arrivata per la prima volta all'orecchio questa parola base jump, vado a fare base jump, questo amico ha detto no, non sapevo nulla, non c'era ancora tutto questo internet, i social media, non sapevo nulla di questo base. Mise su un vecchio VHS dove vedi per la prima volta questi ragazzi che saltavano dai fiori di norvegesi, appunto con paracadute, e rimasi folgorato, dissi wow, questo è figo, questo è da vedere, da provare. però non c'era la possibilità come adesso di appunto affidarsi delle scuole o persone competenti, erano pochissimi praticanti di allora, già sono pochi adesso, allora erano proprio veramente rosicati ed era un po' una tribù molto chiusa, non era facile farsi trasmettere il sapere di questa, chiamiamo l'attività. Niente, mi sono procurato un paracadute da base con uno dei pochi produttori che c'erano allora, ho preso per nove mesi tutte le informazioni che riuscivo a rubare ad Estremaca e poi da autodidatta ho preso, me lo sono piegato, mi sono tirato giù da un ponte, ha iniziato il mio percorso. Da un ponte? Hai saltato da un ponte? Un ponte, un viadotto, perché il posto più sicuro dove iniziare sono i ponti. Perché sono i più sicuri dove cominciare? Sono i più sicuri perché io quando salto da una base fissa, apro il mio paracadute, il paracadute si apre, ok, in asse e inizia a volare. Se il paracadute si apre fuori asse, inizia comunque a volare, però se è un ponte, passo sotto e non sbatto contro l'oggetto dal quale ho saltato, se invece è un palazzo piuttosto che una montagna, rischio di sbattere contro l'oggetto dal quale ho saltato. Siccome sono un principiante e non conosco ancora bene le tecniche o comunque non riesco ad attivare molto rapidamente per i tempi di reazione del principiante le tecniche per girare la vela rapidamente, è sicuro un ponte piuttosto che una montagna. Pensa, avrei detto, un ponte perché probabilmente c'è sotto l'acqua così almeno un po' il paracadute si apre e se ti schianti, ti schianti sull'acqua e quantomeno non ti schianti. Beh, non hai detto che tutti i ponti abbiano l'acqua sotto, soprattutto l'acqua dopo un tot di quota sappiamo bene che diventa come il cemento, quindi comunque sia anche saltare da 100 metri dentro l'acqua. Anche no. Sai che mentre solamente hai detto, il primo lancio ho fatto da un ponte, già mi stupono le mani. Tranquillo, anch'io ero così. Io mi ricordo che non ci ho dormito una settimana prima di quals'altro, nel senso che non è naturale per l'essere umano né buttarsi da un aereo né buttarsi da una base fissa con un paracadute sulle spalle. Cioè, è comunque una cosa che va al di fuori delle nostre cognizioni, no? Cioè, è una cosa che è forte. È anche per quello che non è molto facile da far comprendere alle persone che stanno al di fuori di quest'ambiente. Oramai convivo con l'etichetta di DLMW da 24 anni. Cioè, è così. Però sono ancora qui, facendo gli scongiuri del caso. Però è ovvio che non si può concepire. Bene. Cioè, cosa va? Mi butto da un condominio. Buona, sei marchiato come un pazzo scatenato, normale. Un pazzo furioso. Peraltro, sei un pazzo furioso, vero tu? Sei proprio al top della mia piramide di pazzi furiosi. Madonna, che onore! La verità è che, ne parlavamo anche ieri, ogni volta che tu vedi una persona come puoi essere tu o una persona che fa un mestiere visto come estremo, Alex Honnold nel documentario, lo ho visto, ho voluto conoscere quello su McCompy. Tu vedi le persone che, cacchio, hanno un livello di attenzione, di preparazione, di meticolosità, di professionalità altissima. Cioè, il problema della paura è spesso legato al fatto che tu sei incompetente, non sai, quindi hai paura. Mi dice, vieni a fare la Formula 1, cioè, ma cosa? A me spaventa andare a 50 mili all'ora, quindi ognuno ha un livello di competenza diverso. Sì, è anche una cosa di percezione. Il bambino ha paura del buio perché non vede, accendi la luce, quello che c'era nel buio c'è anche con la luce, ma non ha più paura perché lo vede. Lo stesso concetto è di quello che non conosci. Io ho le mie paure, questo è l'ambiente, ci sono sempre delle tensioni, delle paure, ma vengono gestite. Se dovessi andare sott'acqua, per esempio, fare speleosub o cose di questo tipo, non mi sentirei assolutamente da me, ma sarei totalmente fuori dalla mia zona comfort e non fa per me, potrebbe essere veramente pericoloso perché non è l'ambiente. Ci sono arrivato comunque a gestire certe cose comunque col tempo. Cioè, io la prima volta che mi sono trovato sulla balaustra ad un ponte dalla parte sbagliata, non è che ero sereno come qua che sto parlando con te. C'era un livello di attenzione che era molto forte. Adesso se mi ci metto c'è ancora minore della prima volta perché la zona comfort pochettino si è spostata. Com'è che l'abbiamo spostata? Con le competenze e l'allenamento, il training, che è anche mentale praticando l'attività. Una curiosità, ma che differenza c'è di sensazione tra fare base jumping e buttarsi invece con la corda dove poi hai il rinculo che torni su. È la stessa identica cosa? È come sensazione? È qualcosa che invece non c'entra assolutamente niente? Allora, bungee jumping, salto con l'elastico. Infatti adesso a me lo conoscono tutti il bass, ma nei primi vent'anni fa mi ricordo che quando diceva faccio bass era bungee jumping, era rimarchiato come quello che saltava con l'elastico. In realtà la percezione è simile. L'unica roba è che dopo un secondo o due comincia a percepire un po' il peso dell'elastico, ok? Però il corpo comunque è in accelerazione come in un salto di bass. Poi viene frenato pochi secondi dall'elastico, però finché tu sei nei primi secondi in caduta libera è molto simile. L'accelerazione è la stessa. È totalmente diversa invece la percezione che hai se tu salti da un aereo. Perché da un aereo io ho già la velocità del vettore, ho già la velocità dell'aereo. L'aereo va a 120 km orari, io ho già quella velocità anche se sono seduto dentro. Quando vado fuori la percepisco, quindi sento questo flusso, quest'area solida, come mettere la mano fuori da un finestrino quando vado in macchina, su tutto il corpo e quindi ci nuoti dentro. È totalmente diverso. Mentre nel salto di bass tu percepisci dopo l'accelerazione. Sei da 0 a 150. E il bungee è una cosa che può servire come preparazione per fare bass jumping o sono due robe che proprio non c'entrano in una sega l'una con l'altra. Ma io per non saperne leggere e scrivere, prima di fare il mio primo salto bass, un paio di salti con l'elastico me li sono fatti. Era proprio ideutico per comunque staccare nella maniera corretta da una base. Quindi sì, può essere proprio ideutico. Ok. E tu ti senti più al sicuro a fare un salto con un elastico attaccato o con fare un bass jumping con il tuo paracadute? Mi sento più sicuro con il mio paracadute semplicemente perché è tutto sotto il mio controllo. Me lo controllo io, me lo piego io e gestisco tutte le variabili io. Cercando di farle stare dentro una finestra al più piccola possibile di rischio. Chiaro, 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 chiaro. L'altra curiosità che avevo, mi piace con tutte queste curiosità stupide. Però, sai, è un mondo talmente lontano per molti che è incredibile. Quanti bass jumpers ci sono in questo momento in Italia e quali sono i posti al mondo dove c'è maggiore cultura di questo fuoco? Allora, in Italia ti posso stimare che ci sono non più di una settantina, ottantina di bass jumpers attivi, dove attivi per me sono persone che sanno piegare il loro paracadute, vedere un posto, più o meno valutarlo e saltare, diciamo. Quindi metterei un'ottantina. Nel mondo... Scusami, Maurizio, quando dici attivi sono attivi che saltano ma fanno quel mestiere lì e basta? No, 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 che fanno lo sport. Che fanno lo sport. Che ci lavorano nel mondo pochi, però ti dico che fanno lo sport, che lo praticano, ok? Hanno le loro attività, weekend, ma buttarsi dalla montagna, diciamo. Invece che fare solo paracotismo fanno anche bass jump. Nel mondo devi pensare che è una comunità che con l'avvento dei social media, diciamo il boom c'è stato nel 2005, è incrementato tanto, ma parliamo di numeri che sono ridicoli. Se ti dico 4.000 praticanti nel mondo, sono già stato largo. Diciamo, tra i 3.000 e i 4.000 praticanti nel mondo. Nulla. Ok, quindi veramente numeri rosicati. E professionisti invece, gente che fa quel mestiere lì, come puoi essere tu, che dice io di mestiere faccio quello. Secondo me... Poi dobbiamo anche capire bene il mestiere, cosa fanno all'interno, perché ci sono persone che fanno quello, sono sponsorizzati, quindi sono atleti, fanno base e con gli sponsor fanno delle cose particolari, ma ed è una professione di quel tipo. Oppure istruttori, come nel mio caso. Secondo me non arriviamo a più di 50 professionisti nel mondo. 40-50. Wow. E sono stato largo. Mentre gli istruttori proprio che insegnano questa attività, siccome è una comunità molto piccola, i nomi sono quelli, ci sconosce tutti e quelli con il bagaglio di esperienza maggiore, i nomi sono quelli, una decina circa. E fate un vostro ritrovino annuale dove ve la contate su? C'è una community dove c'è concorrenza o c'è poi una famiglia di fatto, perché condividete una visione simile anche della vita, immagino? No, è una famiglia, ci si conosce veramente tutti. Non c'è problemi concorrenziali, perché quelli sono e tra virgolette c'è il lavoro per tutti. È una community molto stretta, tra l'altro si instaurano dei meccanismi anche molto particolari, perché come nel mio caso io vivo sotto una delle pareti più famose al mondo, quindi qua passa di tutto, li conosci veramente tutti, base jumper, e ahimè sappiamo che gioco giochiamo, è un'attività potenzialmente pericolosa, come tante altre attività per carità, però questa è potenzialmente pericolosa e ogni tanto, come per gli alpinisti estremi che si conoscono tutti, qualcuno viene a mancare, quindi hai tanti amici in giro per tutto il mondo e ogni tanto qualche brutta notizia arriva, purtroppo. Chiaro, chiaro. Dimmi un'altra cosa, come sostenibilità economica di uno che decide di fare il tuo mestiere, diciamo non è una scelta che insegnano a scuola, dove a scuola ti dicono senti, tra le varie attività ricordi che puoi fare anche il base jumper, e noi diciamo, ah sei fantastico, no, non è così. Anzi, immagino che sia una scelta tendenzialmente sconsigliata poi, non so, la famiglia, gli amici, ma sei fatti, cosa fai, mi metti la testa a posto, e poi all'inizio magari fai paracaduttismo, poi hai iniziato a fare base jumping, immagino, non è che qualcuno ti pagasse per far quello, no? Cioè, lo fai, bravo, però in bocca al lupo, insomma. Come hai trovato, diciamo, questo percorso rispetto a quello che era il giudizio altrui, è una cosa che hai sempre saputo gestire, oppure no? Questa è la prima parte. E la seconda parte invece è l'atto economico, come mangia oggi uno che di mestiere fa il base jumper? Allora, premettiamo che io mi sono trovato negli eventi, nel senso che io mai nella mia vita pensavo di arrivare a vivere di una mia passione. Cioè, premesso, io sono cinque anni che gestisco una scuola di base, prima facevo tutt'altro, facevo il tornitore, lavoravo in fabbrica, e facevo questo come obbio, cioè, facevo di passione quello. Però gli eventi, e io sottolineo il 2005 perché io ho visto proprio il grande boom di questa attività nel 2005, quando esplosione di social media e delle action camera, quelle che la combinazione social media e action camera ha stravolto tante cose, anche il base jumper, perché io ti ho potuto portare nell'azione. Mi metto la telecamera in soggettiva, io ti faccio vedere quello che vedo, ti faccio entrare in questa attività e gli animi si scaldano, dicono, wow, figo, bello, lo voglio fare anch'io, e quindi i numeri li salvano. Quindi da lì c'è stato un boom di praticanti. Aumenta la gente che vuole praticare, comunque aumenta la domanda, e quindi ci vuole anche un'offerta. Quindi, giustamente, la gente vuole imparare a chi si affida, a chi ha più salti, a chi ha più esperienza, e quindi sono andate alle prime scuole. Io sono stato uno tra gli ultimi a fare una scuola, nonostante l'esperienza, perché mi sembrava una cosa veramente fuori dagli schemi, ma veramente possiamo vivere di questo? Però guardavo in giro i miei colleghi australiani, americani, e ho detto, oh, ma io provo a fare la prima scuola anche in Italia, e per il momento funziona, nel senso che ha funzionato. Sta andando, la gente si è richiesta. Il calcolo è che io lavoro il 95% con stranieri, anche di più, da tutto il mondo. Praticamente tutti gli stranieri che passano di qua. Sul lato economico, semplicemente, la persona richiede un tuo servizio. Cioè, sono tanti. Da la consulenza sui materiali, alla vendita di materiali, piuttosto che all'istruzione, giustamente, sono pregottista, fammi diventare un base jumper, al coaching, cosa vuol dire? A livello successivo, tu arrivi che sei già un base jumper, vuoi migliorare le tue tecniche di volo con la tuta l'area, le acrobazie aeree, la sua migliorare certe tecniche, e tu gli trasmetti il tuo bagaglio di esperienza maturato negli anni. Non ultimo, interessante, magari ti può interessare, adesso chiunque che è al di fuori del nostro mondo, può provare per una volta, anche più, un salto di base. Come? In tandem. Ovvero, ho importato in Italia, nello specifico in Europa, siamo in due, adesso in tre al mondo a fare questo tipo di cosa, il salto è doppio. Cioè, io prendo una persona, l'attacco a me, e saltiamo insieme da una montagna. Chiunque, anche che non ha mai saltato un aereo, che senza esperienza, può provare il brivido di staccare i piedi da una base fissa, senza passare attraverso il lungo percorso che c'è per diventare un base jumper, che richiede comunque tempo, denaro e anni di esperienza. Mi hai convinto, quando quando ho 80 anni, lo facciamo. Vediamo se sono ancora in forma io. A qualcuno ci sarà. A 80 anni ci sono, se lo vuoi già segnare sul Google Calendar... Lo segno in agenda. Se è martedì ci sono le tre e mezza, però guarda... Perfetto, hai segnato in agenda. No, questo chiaramente apre un accesso a persone anche che non hanno competenze, perché se no, insomma, è un casino, ci vogliono anni per arrivare a fare quella cosa. Sì, anche perché, sai cos'è? Io ho voluto tanto questa cosa, ci ho messo degli anni per arrivarci, perché la domanda che io mi sento maggiormente fare in 20 anni è, ma cosa si prova? Quasi prova, certo. L'aspetto emozionale. Le emozioni vanno vissute. Io come faccio a mettertela in parole? Non puoi mettere in parole l'amore che provi verso la tua compagna o verso i tuoi figli. Devi viverlo. E allora, quale cosa migliore se non venire con me e viverlo? Io, quando arrivo a terra, che ho fatto forare un'esperienza così forte a un cliente, non ho mai visto reazioni brutte. Vedi proprio reazioni che sarebbero da filmare, sono veramente forti, perché comunque vai veramente un bel passo in là, nella tua zona comfort, e le persone in quel momento sono wow, a mille. Non solo per l'aspetto adrenalinico, ma proprio vedi che gli scatta qualcosa. Mai nessuno è arrivato a terra e ha detto no, la roba più brutta della mia vita non lo rifarei. Nelle reazioni più disparate, da chi piange, a ride, non lo fermi più, a chi si va a fare un litro di birra, di tutto. E se ti capita uno o una che arrivi lì sopra e quando sei lì per saltare, dici no cazzo non saltare, non saltare, non saltare, non voglio scendere, cosa fai? C'è tutta una procedura. Questa procedura interagisce col passeggero, perché tu devi pensare che comunque sei davanti tu, quindi sei sul bordo di un precipizzo di 1200 metri. E lui ce l'hai dietro? No, lui è davanti. Ah, lui è davanti? Lui è con i piedi sul bordo, 1200 metri di vuoto. Quindi ho un palazzo, ho una struttura, quindi capisci bene che prima di arrivare lì c'è tutto un percorso, ok? Quindi dura un tot e ci sono tutti degli step e delle domande che tu fai al passeggero, quindi lo fai interagire, no? Gli dico sempre, ok, adesso siamo di lato al vuoto, ci giriamo, ci mettiamo sull'exit, c'è la luce verde da lui, ci giriamo. Passettini, passettini, lo metti davanti fino a che gli fai l'ultima, più importante e fatidica domanda, che è vuoi saltare? Proprio chiarissimo, vuoi saltare? Se lui decide se saltare, lui mi dà l'ok, a quel punto point on return, non si torna più indietro. Quindi a quel punto inizia un conteggio, ok, 3, 2, 1, saltiamo. Però gli dai ancora l'ultimo momento per poter decidere. Se lui anche all'ultimo momento, dopo che ti ha dato la luce verde, tentenna, la porti fuori. Oramai si torna più. Sì, quando inizia a contare che sei in jump mode, vai. Ah, ok, ok, a quel punto vai e fine la storia. Vai, quando gli hai chiesto, vuoi saltare? E ti dà l'ok, può fare qualsiasi roba, a me non mi cambia niente. Oramai andiamo. Ok. Anche se si muove, a te non... No, perché viene posizionato in una posizione tale che con le mani e le braccia non può fare nulla di che. È tutto gestito, è sotto il mio controllo. Chiaro, chiaro. Tu, peraltro, abbiamo parlato di montagna, ma ti sei lanciato dai posti più pazzeschi, insomma. Quali sono i posti incredibili da cui ti sei lanciato non montagnosi? Allora, facciamo un piccolo preambolo. Allora, BASE, cosa vuol dire BASE? BASE è un acronimo che sta per Building, Antenna, Spurn and Earth. Sono le quattro principali categorie d'oggetti dalle quali un BASE può saltare. Palazzi, Antenna... Pensavo forse la base. No, è un acronimo che richiama poi la base, ok? Quindi sono le quattro principali categorie che richiamano appunto i posti, noi li chiamiamo oggetti in gergo, dal quale tu puoi saltare. Poi in realtà non sono tutti lì dentro, perché c'è anche una categoria che chiamiamo la Others, ok? Che è tutto il resto, che richiama tutto quello che non è in quelle quattro categorie, ma che si può saltare. Ripetimi le categorie, ripetimi le categorie. Building, Palazzi, Antenna, Antenna, ok? Spun, loro lo intendono, gli americani lo intendono come ponti, arcate, ok? Ponti. Earth come pareti, quindi montagne, cliff, ok? Questa cosa qua gli è stata data dall'inventore, tra virgolette, del base, nasce negli Stati Uniti negli anni 80, questa attività, e comprende un po' tutto. Però in realtà, qualsiasi struttura che abbia quattro principali caratteristiche, diciamo, che sono altezza, spazio aereo libero, atterraggio, ok? E exit point, punto dove poter staccare, in teoria sono potenziali exit, punti dove si possono saltare. Quindi, quando diventi best jumper, ti cambia la vita, perché tu cominci ad andare in giro, e un palazzo non è più un palazzo in sé, un'antenna non è più un'antenna in sé, ma è un possibile punto di lancio. Tornando a te, io ho fatto 487 oggetti differenti, in giro per il mondo, quasi 20 anni. E vabbè, ti posso citare i più noti, uno se l'hai alle spalle, lo puoi vedere qua, che è la Torre di Pisa. Non ci credo. Tutti i monumenti più famosi, il Colosseo, il Campanile di Giotto, Duomo di Milano, che ha avuto anche un eco mediatico un po' importante ai tempi, la Tour Eiffel, autorizzato la Banca Centrale Europea, il Moss Stadium in Sudafrica, vari palazzi a Shanghai, insomma, tanti posti. Hai detto autorizzato, perché gli altri li hai fatti non autorizzato? No, me la sono presa l'autorizzazione. Nel senso che lì devi studiare come fare, e poi lì in gioco si abbinano i due sport insieme, il base jump e la corsa, perché poi devi incominciare ad andare veloce quando atterri e sperare di non essere preso. Dimmi come funziona un'impresa del genere, tipo, non so, Duomo di Milano. Dici, ok, adesso voglio saltar giù da Duomo di Milano perché mi va. Non mi autorizzeranno mai e quindi lo dovevi fare ai tempi, immagino oggi sarebbero forse più severi, magari se ti cucano. ai tempi magari era una cosa ancora un po' nuova e quindi magari si riusciva a avere più facilità d'accesso, mi immagino. Ma come funziona? Come ha funzionato quella rama? Beh, allora, innanzitutto, come hai detto tu, innanzitutto parte da un'idea. Tu vedi una roba e dici, interessante, parte da un'idea. Premetto, non sarebbe più possibile adesso fare il Duomo di Milano perché i sistemi di sicurezza mi hanno fatto un passo in più, quindi non riuscirei più a fare quello che ho fatto allora. Io mi ricordo che ero in piazza Duomo, vedi il Duomo, e dissi, e dissi, cavoli, però, magari da lì un salto ci viene. Mi feci un primo giro di ricognizione sulle terrazze, studiai tutto quello che si poteva fare, però il mio bagaglio di esperienza allora non mi faceva vedere cose che poi ho visto qualche anno dopo perché premetto che dalla prima volta che ho visto il Duomo come punto saltabile al salto sono passati due anni. In mezzo è intercorsa tutta un'esperienza in più e uno studio in più, quindi mi ha richiesto quasi due anni per poter fare quella cosa. Poi molto semplicemente, per fartela lunga, quando sono arrivato a avere tutte le caselle al posto giusto dovevo solo entrare in azione. Sono entrato passando tutti i vari controlli, metal detector, esercito, all'interno dell'ingresso del Duomo, sono andato sulle terrazze pagando un regolare biglietto senza paracadute né niente perché non potevo entrare con un paracadute. Ah giusto, infatti il paracadute dove era? Non c'era, non era con me. Sono andato sulle terrazze, ho dormito lì, comunque sono stato lì durante la notte e quando sono state le due, le tre di notte avevo solo un cordino di 36 metri in Kevlar che ho calato di sotto e mi sono portato sul paracadute sulle terrazze. Lì mi sono imbragato, ero pronto a saltare perché la mia idea era di saltare di notte, non lasciare neanche l'impronta, arrivare e sparire come un fantasma. Sorpresa, mi affaccio verso Piazza del Duomo e c'erano due pattuglie della polizia parcheggiate a pochi metri dove dovevo atterrare io. E quindi ho detto ah, e adesso? Interessante. A quel punto ho aspettato fino al limite alla timeline che mi ero dato, che era l'apertura delle metropolitane. Era il deserto, era luglio, quindi non c'era nessuno. Io volevo saltare con la piazza vuota, era impensabile saltare in testa la gente, potresti fare le mani a qualcuno. Quindi ho detto se entro le sei, questi non vanno via, io da qua non posso scendere in maniera di frenza, anche perché cerco il mio paracadute dall'ingresso. La vedo uscita è quella, si salta. Alle brutte mi acchiappano. Ho tirato finché ho potuto, timeline, alle sei, mi sono imbragato, ho saltato e poi se vai su YouTube vedi anche il video, è molto divertente. sono atterrato davanti all'ingresso della metropolitana, ho sganciato la vela, ho corso immediatamente giù verso i treni, non potevo andare ai treni perché se no la polizia che iniziava ormai a corrermi dietro mi avrebbe preso. Mi sono infilato nel chioschetto dei cinesi, intanto mi sono tolto la sacca che me l'ha rimasta così. In quel momento mi ricordo che è arrivato un addetto della sicurezza e mi fa hai visto uno col casco? E gli ho detto sì, è andato di là. Lui si gira e scappa dall'altra parte e basta e sono riuscito ad arrivare a casa, comodamente a casa. Peccato che poche ore dopo è squillato il telefono della questura perché quei filmati che insomma avevano riuscito a risalire a me è venuto fuori quello che è venuto fuori. E in quel caso la questura ti ha chiamato e ha detto si presenti e ti sei presentato e ti hanno mandato. Sono presentato con tutte le procedure del caso, era un reato minore e quindi mi hanno dato l'articolo 674 se ricordo bene il codice che era lancio di oggetti che in quel caso ero io l'oggetto che era stato lanciato e basta poi alla fine dopo un po' di tempo è stata archiviata finita lì diciamo. Ti sei autolanciato dimmi dei posti dai quali in questo momento ti vorresti lanciare non ti sei mai lanciato ma diciamo ah cacchio questo posto qua effettivamente sarebbe forte. Vabbè ce ne sono tanti che anche se ti dico il nome non li conosceresti magari sono pareti o posti che non sono noti però penso che è già stato fatto penso che il sogno di ogni base jumper nel cassetto sia il Burj Khalifa che è il grattacielo più alto del mondo a Dubai con il tono visivo possibile quello lì esatto io ho provato fisicamente la Shanghai Tower a Shanghai 600 metri di palazzo quando era in costruzione ma non ce l'abbiamo fatta perché i sistemi di sicurezza erano troppo troppo avanti non ce l'abbiamo fatta e vabbè un sogno nel cassetto ci sarebbe ma non so se Papa Francesco è molto contento diciamo che San Pietro sarebbe interessante lo farei da dentro indoor quindi sarebbe interessante ma è solo un sogno che rimarrà lì basta ok wow incredibile ma invece lavorare con le aziende appunto dico le Red Bull di turno piuttosto che magari appunto Tom Cruise fa il nuovo Mission Impossible ti chiamano e ti dicono guarda ci serve uno come funziona ti è mai capitato ma sì spot pubblicitari o varie cosine sono state fatte io ho un collega mio anzi vari colleghi miei che hanno preso parte alla ripresa di Point Break ci sono delle scene di base hanno chiamato loro per fare questi stunt in tanti film vengono chiamati base jump per fare queste scene di XXX c'era la famosa scena che si saltava dalla macchina quindi c'è da quel punto di vista lì c'è Red Bull sponsorizza io ho amici americani che lavorano con Red Bull sono proprio stipendiati per fare questo fanno delle mission e sì i vari spot comunque capita che si fanno se no si lavora anche con i produttori di materiali perché comunque sia fai proprio da dealer da rivenditore c'è c'è una una branca su su questo è una cosa che a te piace non te ne frega niente non è un settore che ti interessa ma io ti dico io principalmente lavoro come scuola cioè la mia istruzione la mia principale diciamo fonte è il tandem quindi far provare questa emozione a chi vuole dall'esterno collaboro con delle aziende che producono proprio paracadute tutelari e se mi chiamano ok non non disdico appunto lavoretti come pubblicità piuttosto che comparse robe distante ok però sinceramente io punto più sull'istruzione anche perché è un mercato veramente rosicato cioè non si può pensare specialmente in Italia di vivere con la pubblicità che capita una volta ogni due anni cioè io mi sono focalizzato con la scuola perché adesso dopo tanti anni comunque mi sembra che è arrivato il momento il base ha dato tanto a me è arrivato il momento anche di ridare qualcosa e mi piace mi piace comunque trasmettere insegnare parlami un attimo della tecnologia all'interno di questo mondo perché all'inizio immagino i paracaduti o quella che era l'attrezzatura erano molto rudimentali oggi invece c'è sempre più roba sensori tecnologie di qualunque tipo che percorso sta facendo c'è effettivamente un'evoluzione sempre più interessante qual è cosa succede? allora sui materiali proprio i paracaduti fisicamente ci sono state portate delle migliorie però non è stato così stravolto come il primo materiale che ho usato io vent'anni fa perché era già ridotto all'osso nel senso che i materiali è come la macchina senza elettronica con più meccanica che elettronica sono ridotti veramente al minimo tutto quello che non c'è non può rompere se non può creare problemi quindi è super semplice il materiale in sé di base per quanto riguarda invece la tecnologia grande aiuto lo danno le notate all'inizio le action camera perché hanno permesso appunto di vedere i voli rivederti quindi fare dei veri e propri debriefing quindi valutare la performance e da lì trarre dei validi feedback su cui lavorare adesso per esempio le 360 le telecamere 360 sono molto fighe perché riesci a vedere proprio l'azione a 360 gradi mentre quello che c'è interessante con le tutelari è un sistema si chiama il flight è un sistema che si mette sul casco che registra proprio tutti i dati di volo quindi velocità glide efficienza tutti i dati di un volo come fosse un mini aeroplano diciamo e sono state fatte anche delle gare online dove si confrontano i dati e si riesce a fare delle gare di velocità piuttosto che glide quindi sulla performance ma sulla sicurezza in sé l'elettronica non diciamo non è ancora entrata diciamo è veramente tutto molto c'è molto un aspetto umano dietro cioè tu salti hai il tuo paracaduto hai il tuo caschetto e il tuo background di conoscenze che hai che ti può salvare diciamo quando insegni base jumping quali sono le caratteristiche di un bravo base jumper le cose assolutamente fondamentali che deve considerare il più potrebbero pensare che per fare questa attività la prima roba che ti servono sono gli attributi forget non serve a me quando mi arriva io lavoro tantissimo cioè lavoro meglio ok con le persone over 30 40 ok che non con il ragazzino di 20-22 anni che arriva testosterone a manetta non ha paura di niente tanto nervo tanta voglia di fare quelli lì sono più difficili da tenere a freno e da calmare che non la persona matura che arriva vuole fare questa cosa perché ci tiene ok però pondere in una certa in una certa maniera perché quello che è la dota quella che è la dota secondo me più importante per fare questa attività è il salper tornare indietro e se per dire no non ci sono tutti i tasselli incastrati al posto giusto non solo tecnici vento ripiegamento del paracadute piuttosto che altre cose diciamo ma proprio non ci sono anche le condizioni psicofisiche ok più psicofisiche per affrontare quel tipo di salto se sei in una situazione di stress che non riesci a gestire non è il momento di saltare e si torna indietro se quanti salti sono tornati indietro io centinaia arrivi su e dici no o non me la sento o non ci sono le condizioni giuste prendi e torni indietro non ci sono i parametri che tu hai stabilito per quel salto devono stare all'interno di quella finestra non sono all'interno di quella finestra buona non è che dici ah vabbè dai metto un piedino fuori spingo un po' di più il giorno che spingi un po' di più se tutto va bene è bene ma se va male ti trovi in situazioni pericolose quindi io ho come regola che se arrivo su un posto e il sesto senso mi dice no c'è qualcosa che non è nella casella giusta torno indietro ci rimugino su lavoro per cercare di trovare qual è la chiave di volta e si ritorna anche più volte e tu oggi dopo tanti anni che salti cioè hai paura in alcune situazioni o ci sono delle condizioni che ti impauriscono oppure hai un ormai sei padrone della materia per cui non hai un sentimento di paura ma semplicemente lo vedi da un punto di vista tecnico e superi la pressione o quel momento così di impatto che però quando guardi giù guardi giù insomma non so non è proprio naturale non è che ti viene che ti mette tranquillità ecco io ti posso dire in sincerità che ho 40 anni adesso ho più paura adesso di questa attività di non quando ho iniziato come quel fattore che ti dicevo del ragazzo ventenne con tanto nervo adesso mi prendo molti più margine sono molto più conservativo ok riesco a valutare per l'esperienza che ho anche i rischi in maniera differente quindi tengo molto più margine quindi la paura c'è sempre il giorno che io mi metto con i piedi sul bordo di un precipice piuttosto che il cornicione del palazzo e ho gli stessi battiti cardiaci che ho adesso parlando con te c'è qualcosa che non va si appende tra il rito del chiodo che è meglio cioè bisogna avere la giusta paura incanalata nella direzione giusta gestita ok però bisogna sempre averla se non hai paura a fare un'attività potenzialmente letale come potrebbe essere il base jump c'è un problema cioè no la paura ci vuole quella che ti fa tornare a casa cioè io ancora adesso non sono mai totalmente rilassato quando salto sono concentrato è pronto è pronto ad affrontare i rischi che mi sono prefisso diciamo da gestire in quel tipo di salto però sempre con me a paura qual è l'altezza minima da cui uno può saltare oggi proprio che dici sotto questa altezza non si può saltare sull'acqua puoi saltare anche da dieci metri il paracadute non si apre tutto entra in acqua è un tuffo però se stiamo sul terreno solido hanno fatto un record di ventitré metri io fisicamente il salto più basso che ho fatto è trentun metri sono salti vincolati quindi tu sei legato alla struttura passami il termine legato e quando tu salti il paracadute si apre in automatico in venti metri la vella è completamente aperta l'altra curiosità che avevo era quali sono le linee guida che hai in testa sul dove atterrare dove si può atterrare e dove non si deve atterrare a parte atterrare sull'elettricità però a livello di terreno cosa valuti quando dici posso atterrare lì quindi dicevi il duomo posso atterrare ok deve essere vuoto sgombro e questo è chiaro ma ci sono delle caratteristiche che si prendono in considerazione sull'atterraggio tanti vari fattori ok sicuramente lo spazio aereo libero non ci devono essere cavi ok la superficie perché se sono tutte rocce grosse magari mi vado a rompermi qualche caviglia quindi il più piatto possibile e non ultimo anche la quota sul livello del mare perché più ci alziamo di quota se devo atterrare a 0 metri sul livello del mare o a 2000 metri sul livello del mare varia la velocità della mia vela perché l'aria è più aerefatta quindi ho una maggior penetrazione e arrivo giù un po' più forte quindi si valuta anche questo e poi niente qualsiasi superficie sgombra e piana va bene per atterrare anche perché comunque le nostre vele sono manovrabili e riesci veramente a portarle in zone molto ristrette anche di pochi metri dimmi un'ultima cosa che mi interessava particolarmente è la parte di preparazione atletica nutrizione che in che regime è un base jumper dal punto di vista atletico vabbè nel mio caso che devo andare in montagna e camminare con lo zaino tutti i giorni ci sto abbastanza attento nel senso che vabbè io sono vegetariano da anni quindi curo anche abbastanza diciamo la mia alimentazione camminare calcola che si fanno un tot di metri di dislivello al giorno quindi comunque hai sempre uno zaino di 10 kg sulle spalle le gambe ce le hai buone quindi da quel punto di vista c'è faccio degli esercizi a corpo libero di potenziamento per la parte superiore del corpo perché è quella che è meno interessata nell'azione in sé cerco di mantenere uno stato di buona salute generale ok però non è che c'è nell'azione del salto in sé uno sforzo fisico che ti richiede un particolare allenamento è un'attività che fisicamente può fare chiunque lo fanno io ho visto un base jumper di 70 anni cioè per cui non è che se tu hai le gambe buone per arrivare sopra una montagna puoi anche tranquillamente saltarci di sotto per cui la mia ipotesi degli 80 anni non è così pazzeriella insomma potrei effettivamente no no tranquillamente assolutamente ora Maurizio ti ringrazio tantissimo ci diamo appuntamento quando 80 per fare il nostro tantemino sei segnato inizierò a prepararmi mentalmente spero in 30 quant'è dice 33 anni di arrivare preparato e davvero in bocca al fuoco per tutto grazie mille è stato un piacere alla prossima ciao 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 ciao